... Ai 20 anni, andiamo con la quarta concorrente che è Serena Adessi. 18 anni, disperlonga, studia ragioneria. Adora a sfilare, vorrebbe diventare militare. In particolare, le piacerebbe ruolarsi in guardia di finanza. Complimenti, e complimenti. Sto a fare il Dio il militare, visto che non l'ho fatto io. È bella, penso. Tutte belle, veramente. E complimenti a chi l'ha vestito e anche a Marisa Pirotti. Ah, sta di là, sta lavorando, vero? Perfetto. A far l'amore comincia tu, vai, vai. Passiamo alla prossima concorrente, che è la numero 5. La numero 5 è Eleonora Beltrame, 20 anni di continia. Studia scienze dell'educazione dell'università con il sogno di diventare una maestra. E nel tempo libero frequenta una scuola di danza. Eleonora Beltrame. Brava, bravissima anche te, bellissima. E andiamo avanti con la sesta, sesta. Marika Ginnetti, 19 anni, di Samaria. Studia scienze della comunicazione dell'università e la sapienza di Roma. All'opi della pittura. Lei è una pittrice, ragazzi. L'ultima della categoria Glemmur si presenta Caterina Mendoza, 20 anni di sezze. 20 anni di sezze. Lavora come barista e ama mantenersi in forma andando in palestra. Brava Caterina. Ok, bellissime tutte quante. Ebbene, devo dire che siamo partiti bene, no? Un applauso, ragazzi. Bravo, bravi. Prego. Ecco la prima, un applauso, ragazzi. La numero 4. Poi c'è Eleonora Beltrame. Poi Marika Ginnetti. E via con Caterina Mendoza. Abbiamo presentato la categoria Glemmur. E adesso... Sì, va bene. Ecco qui. Tutto suo. Un attimo. Vai. E' aperto? Prova? Sà. Ok, perfetto. Sà. Vai. Per la categoria... Allora, categoria Glemmur vince Marika Ginnetti. Ok, c'è Ginnetti. In fascia. Benissimo. Benissimo. E' un premio di consolazione, ma bella rosa. Per le altre tre. Le possiamo far accomodare? Verga. E' un premio di consolazione. Grazie a tutti